Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su New York Taxi License. Eravamo rinocchi al livello 5, poi il maledetto livello 6, a due parti praticamente era impossibile, ci ho messo 3 anni e non sono neanche riuscito a farlo. D'accordo, cominciamo. Mi sa che devo farlo in qualche 5-6 parti questo stupido gioco, ma credo di farcelo, lo voglio finire, lo voglio finire per una soddisfa, voglio darmi una stupida soddisfazione, tutti i giochi che ho fatto non li ho mai finiti tranne Happy Meals che quello non si può finire in pratica, è un gioco infinito quello. No, dove vai? Dove vai? Dove? Vai? Mi accorso, fai manovra, fai manovra, bravo, 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 così bello, bravo, così. Ho superato il mio record, raga, credo. No, 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 e poi no, come si fa? Ah, non ci credo, dai. Ce la posso fare. Non ci vuole tanto a finire questo stupido gioco. D'accordo, allora, mettiamo in chiaro una piccola cosa. Devo finire questo stupido livello, ci sto mettendo due minuti e siamo ancora al primo livello del video, ragazzi. Non ci posso credere, non ci credo. Cioè, qua nella puntata scorsa, in due minuti e trenta secondi, avevo fatto già due livelli, non ci credo. Ecco, e dai, vai, vai. No, al contrario. Calmo, respira, respira. Poi ho detto respira con la S moscia. D'accordo, allora, mettiamo in chiaro una singolessima cosa. Devo vincere questo livello oppure non finirò mai. Mai e poi mai. D'accordo, ci siamo, ci siamo. Ecco, che cosa ho fatto? E poi non vedo neanche i tasti, perché ho il Nintendo davanti che sta riprendendo. Io riprendo con il Nintendo, ovviamente. Perché non ho una telecamera. Allora, ci siamo, ci siamo, ok, piano, bel, ecco, bravo. Vai, sì, sì, sì. No, 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 no. Ok, ora basta, però. Smettila, smettila. Ah, 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 ah. Capisci la parola smettila? Perché poi che cosa sta succedendo? Oh, oh. Yeah. Cioè, mi, cioè, io non capisco cosa sta succedendo. Sarà perché tu stassi a casa, visto che non li vedo neanche io. Eccolo, eccolo, bravo. Tutta una manovra, tutta una manovra. Non ci credo. Vai così. No. Vai così. Non ci credo. Questa volta, questa volta, questa volta ce la faccio. Sono sicuro che questa volta cascasse il mondo ce la faccio. Dai, dai, dai. Dai, sì, sì. Stavolta non mi freghi, birillo, qualunque cosa tu sia. Non mi ha fregato. Non mi ha fregato all'inizio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Ce l'ho fatta. Non ci posso credere. D'accordo. Dove saremmo precisamente? In una strada del deserto? Oh no. Non dirmi che siamo andati nell'autostrada perché siamo... Che cosa stanno facendo questi due in pratica? Non ci sto capendo niente praticamente di questo gioco. È proprio un no sense. Eccolo. Eccolo. È scatta in prima linea. 300 all'ora. Un... Che... Non... No. Un brutto presentimento. Questo livello non lo finirò mai. Ho un bruttissimo presentimento. L'ho finito invece. Non ci... Non so come ma l'ho finito. L'ho finito. Oh no. Che co... Che... Perché la strada è tutta sgranata? Non so. Allora. Che cosa sta succedendo? Cosa? Ho paura che mi cada la telecamera. A riprendere così. D'accordo. Partiamo. Bravo. No. Oh. Oh. No. No. E poi no. In tutta la vita. No. No. E no. Allora. Allora. Che... Come ci è arrivato quello lì? Come? Ma come? Nella vita come? Io intanto mi fermo. Col verde mi fermo pure io. No. Dall'altra parte giro. No. Oh. Non ci credo. Non sto andando incontro a mano. Cioè. È incredibile. Non ci posso credere. Sto facendo due volte il giro. Ho fatto il giro. Ho fatto il giro. Non ci credo. Che cosa stai... Dai che è giallo. Muoviti. Se questo gira dalla mia parte... Ok. Ok. Allora. Mettiamo in chiaro una cosa. Tu adesso ti togli. Ecco. Bravo. Così. No. 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 E poi... No. Ma no. Dai. Non ci credo. Che ho fatto tutto sto giro. E poi era dall'altra parte. Ok. Speriamo di non bloccare il traffico. No. Dai. Vai così. Questo intanto mi sorpassa a caso così. Dai che sei dentro. Dai che sei dentro. Quasi finito il tempo della telecamera. Raga. Ho finito il tempo. Quindi devo finire anche questa puntata. Siamo arrivati. Pensate a livello... 8. 8 livelli in 2 puntate. Quindi ragazzi. Il prossimo video uscirà. Non so quando. Ne ho fatti 2 in un giorno. Perché... Era un'eternità che non facevo video. Veramente. Ma non di una settimana. Comunque. Se il video vi piaciuto. Lasciate commento. Mi piace. Qua sotto. Aspettate. Ho dimenticato la battuta. E sta finendo il tempo. 30 secondi. Dicevo. E ci continuiamo al prossimo video. Dal vostro Mr. Mario.